Al primo piano del mercato civico di Carbonia trovi Macelleria Mattuzzo, carni fresche e controllate con contorno di simpatia Oggi ho deciso di farti felice Vuoi chiedere il divorzio? Ti piacerebbe Ti ho portato qui al mercato civico di Carbonia presso la macereria Mattuzzo Per un po' di spesa Ma da Claudio e Roberto? Hai fatto la scoperta dell'America, io vengo sempre qui da loro Buongiorno Claudio, come stai? Ciao Kika, bene, tu come va? Tutto ok, grazie Ci fa piacere Senti, oggi ti volevo dare mezzo maialino Poi ti do 4 schierini e 4 hamburger Lo sai che mi fido ciecamente, metti quello che vuoi D'accordo Ogolombo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti